Il laterale croato è in scadenza con gli austriaci dell'Alta. Sarebbe un acquisto importante dei pugliesi.Il Bari sarà una delle protagoniste di questa sessione estiva, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato. IT, il DS Magalini è a lavoro per rinforzare anche la difesa. Sull'out destro l'obiettivo è il croato Jan Jurček, in scadenza con gli austriaci dell'Alta. Jurček è un classe 2000 velocissimo, in Austria ha toccato punte di 36 km orari, in grado di ricoprire tutta la fascia e di giocare sia in una difesa a 4 che da tornante in una a 3. Magalini segue il 23enne, nel passato recente cercato pure dal Monza, fin da quando era al Catanzaro. Come appreso da 900.IT, al calciatore ha proposto un contratto triennale, per lungo sarebbe un grande rinforzo per la fascia destra, specie in considerazione della probabile uscita di Dorban.